Buongiorno fratelli, il Signore vi benedica grandemente anche oggi. Dio vi benedica, amén. Continuiamo lo studio di Apocalisse 12, chi è la donna? Abbiamo studiato ieri dal versetto di Apocalisse 12, 1 a 4, che questa donna rappresenta Maria, che ha partorito Gesù, ma anche la Chiesa, perché sì, la Chiesa ha partorito Gesù, e anche Eva, lo abbiamo spiegato. Spiritualmente la Chiesa ha partorito, ha dato vita attraverso Maria fisicamente. E che altro c'è in questo capitolo? Allora, ieri abbiamo iniziato verso 5, no? Siamo rimasti a 5. Sì, che appunto la donna Maria, in questo caso, ha partorito il figlio maschio, Gesù Cristo. Va bene, abbiamo visto come il Signore ha profetizzato in Genesi 3,15, che avrebbe messo inemicizia guerra tra il figlio spirituale di Eva, che sarebbe arrivato attraverso Maria, la progenia, e attraverso la progenia di Satana, cioè la zizzania. Ora, già qui nel giardino, Dio annunciava che la progenie della donna Eva sarebbe venuto, Cristo appunto, e avrebbe vinto il serpente Satana, avvenuto con la Resurrezione, con la Pentecoste, quando è venuto lo Spirito Santo, questo potere che adesso noi riceviamo nello Spirito Santo. Chi riceve il battito nello Spirito Santo ha potere di cacciare qualunque demone pregate ogni giorno per lo Spirito Santo, finché non questo potere, questa potenza ne viene in voi. Come dice Luca 11, dal 9 al 13, Atti 1,8,8. Il diavolo è vinto sotto i nostri piedi, gloria a Dio. Gesù nasce da Maria, che viene dalla Chiesa, la donna è entrambi, la Chiesa ed anche Maria. Sì. È logico. Allora, questo dice, verso 5, dice, il quale deve? Il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro, e il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono. Apocalisse 12,5. Perfetto. Quindi qui già profetizza che il figlio di lei deve reggere le nazioni, questo è Cristo, con una verga di ferro. Sì. Se leggi Salmo 2, Salmo 2 parla proprio del millennio, e che Gesù punirà con una verga di ferro quelli che mormono, che si lamentano, i ribelli, che vediamo in giro oggi. Ma in che senso Gesù fu rapito? Gesù fu rapito quando fu assunto in cielo. Ah, la resurrezione? Sì. Beh, no, la resurrezione è avvenuta, diciamo, tre giorni dopo la crocifissione. Assunto in cielo, definitivamente, e che poi non è tornato, e lo vediamo in Atti capitolo 1. Dopo che è apparso ai discepoli. Esatto, esatto. Quindi, perché è stato assunto in cielo due volte, alla resurrezione, sì, però anche è tornato di nuovo. Per 40 giorni. Tornato, sì, e fu visto da molti. Sì. In 1 Corinthians 15, dice lo vedo in 500, dopo che lui fu risorto. Allora, leggiamo Atti 1.9, guarda. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato, e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. Atti 1.9. Ecco, quindi, verso 8, lì promette lo Spirito Santo, va bene, che poi il capitolo dopo, Atti 2, lo ricevono a Pentecoste, e dopo questa promessa, ecco che viene assunto in cielo. Leggiamo il 6. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio per esservi nutrita per 1260 giorni. Apocalisse 12.6. Salta 14. Alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi, e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Che è in ebraico, tre tempi e mezzo, è lo stesso di 1260 giorni, quindi tre anni e mezzo. Ma adesso chi è questa donna? Adesso questa donna è la sposa di Cristo, perché Maria non c'è più. Ah. Va bene. Quindi qui vediamo la tribolazione dell'anticristo, che dura 1260 giorni, appunto, come dice qua verso 6. Questi giorni si riferiscono al periodo specifico di tribolazione della bestia anticristo contro la Chiesa, vedi Apocalisse 13,5 e Apocalisse 11,2 e 3, sono tre anni e mezzo, sempre con bacia. E il periodo specifico è la tribolazione dalla Chiesa, va bene. Sappiamo che questa profezia non si riferisce a Giuseppe e a Maria duemila anni fa. Quindi siamo saltati nel tempo della fine. Sì. Leggi anche il verso 17. Allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Apocalisse 12,17. Ecco, se la donna fosse stata Maria, allora il dragone avrebbe dovuto perseguitare la discendenza di Maria. Ah sì. Va bene. Mentre lei sarebbe stata, supponiamo, 1260 giorni nel deserto di Egitto. È andata in Egitto, però non diceva quanti giorni. Sì, sì. Ma questo non è mai avvenuto. Mentre Maria, la moglie di Giuseppe, era in Egitto con Giuseppe e Gesù, la discendenza della donna fu perseguitata, viene perseguitata, ma questo non avvenne. No, 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 no. Quindi non combacia con Maria adempiendo tutta la profezia dell'Apocalisse. No, no. Non combacia per niente. Perché mentre lei era in Egitto, allora la sua discendenza spirituale sarebbe stata perseguitata, ma la discendenza spirituale non ce n'era. No. Perché Gesù non era ancora cominciato a predicare. Giusto. Quindi questo mostra che non era, non può essere adempito in Maria, questo. E non sto parlando in teoria, con opinioni, supposizioni. Vi sto andando a delle scritture. Va bene. Proprio queste sono scritture che verso 17 il dragone perseguita la donna, fa guerra alla discendenza, durante tre anni e mezzo di Apocalisse 12, 14, verso 6 e verso 14. Quindi in nessun modo puoi cercare di adempire questo in Maria. Va bene. Questo è un frutto della religione, insomma. Cioè dire che è Maria la madre di Dio, è come dire che, cioè, allora andiamo, andiamo alla parentela della carne, allora adoriamo Giovanni Battista perché era il cugino, Elisabetta, cugina, ma non è così, non si possa adorare. Va bene. O adorare i fratelli carnali di Gesù che sono nel Vangelo. Non ha senso. Quindi non vi fu nessuna persecuzione di cristiani. Va bene. Perché a quel tempo, quando Maria era nel deserto, in Egitto, non c'erano cristiani. Non c'erano cristiani. C'erano solo giudei. Non c'era la discendenza. La discendenza della donna sarebbe la discendenza del seme della donna. Va bene. Il seme della donna è Cristo. È quello che schiaccia il capo e il diavolo. Cristo non aveva ancora cominciato sul ministero a trent'anni. Ma anche quel periodo descritto qui 1260 giorni è il periodo che vediamo sempre collegato alla tribolazione, al tempo della fine, all'anticristo. Non una cosa passata durante i giorni di Maria, ma durante il tempo della fine, Apocalisse 13. Perfetto, perfetto. Esattamente. L'unico collegamento biblico profetico nelle profezie dei tre anni e mezzo è Apocalisse 13.5, l'anticristo che esce dal mare e perseguita i cristiani e li vince verso 7, Apocalisse 13.7. Quindi la donna qui è la chiesa o la sposa di Cristo? Chi è? In questo caso, la donna che fugge è la sposa di Cristo. Non tutta la chiesa. Non tutta la chiesa, perché la donna fugge nel deserto, Apocalisse 12.14. Chi è la donna? In questo caso è la donna di Apocalisse 19.7 che dice la donna si è preparato e la sposa di Cristo si è preparato e così via. Però non è tutta la chiesa, perché dopo che la donna si rifugia nel deserto al verso 14, vediamo più avanti verso 17, va bene, che è legge di nuovo 17. Che l'ho letto, sì. Il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Ecco, non esistevano questi qua quando Maria era in Egitto. No, nessuno vuol togliere la gloria, non la gloria, la gloria va solo a Dio per cortesia. Non va a Maria la gloria, va a Dio. Quindi quelli che... Perché Dio non ha madre, ok? Lui è sempre esistito. Quelli che restano della discendenza di lei, della sposa, chi sono questi? Questi sono... Verso 17? Sì. Queste sono le chiese che non sono la donna. Ah, questa è la chiesa? Questa è la chiesa generale nel mondo che è salvata, nata di nuovo. Va bene? Però la donna invece va a tre anni e mezzo rifugiarsi nel deserto, mentre la donna, mentre la chiesa in generale viene distrutta. Perché è nell'apostasia come vediamo oggi e lo vediamo in Apocalisse 13, 13, 17 che viene distrutta. Verso 17 l'anticristo fa guerra contro di lei, prossimo capitolo 13, 17 la vince. D'accordo? Sì, quindi alla fine la donna è la sposa di Cristo che ubbidisce durante la tribolazione e si nasconde nel posto preparato da Dio, mentre il resto della chiesa viene distrutto dal diavolo. Sì, perché non si è preparata. Distrutto come per esempio i cristiani in Russia quando sorse Lenin, Stalin. distrutto come i cristiani in Vietnam, distrutto come i cristiani in Iraq, in Siria, in Pakistan. Dio ci aiuti. Capito? Sì. Tutti i cristiani che non si preparano vengono distrutti come ultimamente in una chiesa in Nigeria sono andati quei mitra degli islamici e hanno mitragliato e ucciso 80 fedeli morti uccisi che pregavano e questo avverrà dappertutto durante la tribolazione. Bene, grazie Signore aiutaci preghiamo preghi tu una preghiera prego che il Signore ci aiuta il Signore ci aiuta tutti nel nome di Gesù ad essere parte della donna ubbidiente la donna fedele la sposa di Cristo e non parte della chiesa che è comoda che non si prepara che non ubbidisce il Signore ci aiuti tutti ognuno di noi a sentire la voce di Dio prepararci secondo la sua volontà nel nome di Gesù nessuno sa chi è la sposa sarà scelta da Dio dalla nostra chiesa da altre chiese tutte le chiese va bene attenzione quelle chiese presuntuose noi solo noi solamente noi no 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 state lontano da quelle chiese solo noi i 154.000 no 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 quelli sono solo presuntuosi Dio sceglierà la sposa i 144.000 nel nome di Gesù Cristo amè e questa è la conclusione del messaggio di ieri Dio vi benedica vi amiamo alleluia lodi a Dio se volete scriveteci se volete qualche studio in particolare amè un abbraccio forte di